La Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha realizzato due importanti progetti denominati Non perdiamoci di vista e MIT Psiconcologia e rivolti ai pazienti guariti dal tumore e bisognosi di assistenza sanitaria psicologica. I due progetti approvati dalla Lilt nazionale coinvolgono oltre all'Abruzzo anche il Molise e la Sicilia e nascono da una forte esigenza sul territorio, ossia fornire percorsi assistenziali di qualità ai pazienti oncologici definiti, ovvero lungosopravviventi e cancer survival. Questi pazienti, ha ricordato il professor Marco Lombardo, presidente della Lilt, sono coloro che hanno ricevuto una diagnosi di tumore da oltre 5 anni e che hanno risposto positivamente alle terapie farmacologiche o chirurgiche, indicando una guarigione dalla patologia. C'è la necessità di valutare e seguire questi pazienti con un follow-up specifico in base alle singole neoplasie e ai singoli tumori che hanno avuto. Dall'altro fare una diagnosi precoce delle eventuali recidive o ricadute e dall'altro ancora valutare le alterazioni psicologiche che questi pazienti o questi pazienti in generale hanno avuto e quindi dare loro il supporto necessario. In Europa, ricordato ancora il professor Lombardo, sono circa 12 milioni pazienti guariti dalle neoplasie, mentre in Italia sono oltre 3,5 milioni persone guarite dalla malattia che chiedono un supporto sanitario psicologico per essere reintrodotte nei luoghi di lavoro o tornare a svolgere una vita sociale normale. In genere gli ex pazienti oncologici hanno difficoltà nel riadattarsi sul posto di lavoro, spesso ci sono state delle malattie devastanti che quindi hanno creato dei problemi di relazione legati anche alla sessualità, questo anche e soprattutto per le donne che hanno avuto operazioni, interventi al seno, ma anche uomini che hanno avuto problemi ad esempio al colon retto e quindi ci sono delle problematiche importanti e quindi il nostro obiettivo è fare in modo che loro attivino risorse e si riabilitino e riadattino ad un sistema.